amine siamo qui oggi per piangere la scomparsa dell'amato ma cittadini trappato anzitempo da questo mondo so che il suo trapasso vi fa sentire addolorati ma non dovreste poiché come tutti noi usciamo dal grembo così tutti dobbiamo anche lasciare questo mondo è naturale come il sorgere il calare del sole riflettete un istante sulla sua vita e ringraziate per tutto il bene che ha fatto sappiate che un giorno lo ritroverete con voi in paradiso come sapete quest'uomo è stato ucciso da un assassino abbiamo cercato il suo sicario ma senza successo quelle creature si celano nell'ombra e rifugano ogni scontro leale ma non oggi poiché uno di essi è in mezzo a noi egli si beffa di noi con la sua presenza e perciò deve pagare trovatelo portatelo qui che la giustizia di dio sia fatta il no no non no no no! non lo so! non lo so! non lo so! non lo so!